Non cambia nulla, rimane tutto invariato, gli incontri perché c'erano tanti appuntamenti già presi, situazioni da sistemare, facci due chiacchiere con la squadra visto l'importanza della partita di domenica, insomma andiamo qui a fare due giorni belli completi, l'incontro con il Goglia Maranto che è importante. Da quando è tornato Marco bisogna dire che è tutto più lineare, la squadra ci è piaciuta molto, le situazioni sono veramente reali, si va bene, siamo avanti senza difficoltà, siamo contenti, per il futuro ovviamente speriamo sempre il meglio per quello che è possibile. Ma io sono convinto che a linea del dialogo, come è giusto che sia con tutte le persone che vogliono trovare una quadra e andare avanti, quindi sicuramente ci metteremo seduti da buoni soci quali siamo e troveremo un quadro di intenti in generale a 360 gradi, ma sono sicuro, noi siamo persone serie, lo sono persone serie e quindi ci metteremo alla fine su tutti quanti per il bene comune dell'Arezzo, perché tanto alla fine dobbiamo tener conto questo, c'è un bene da perseguire, è quello dell'Arezzo, poi il resto noi veniamo dopo, viene prima la squadra, poi viene tutto il resto. Il miracolo sportivo lo speriamo tutti, è fuori discussione, se non pensassi che si possa fare un miracolo sportivo sarei un folle, quindi comunque nel mio piccolo, nel mio cuore c'è sempre la speranza di riuscire a vincere il campionato. Nello stesso tempo ci siamo già preparando per, nel caso ci fosse la possibilità di un ripescaggio, noi saremo pronti, ci faremo trovare pronti senza nessun problema. I due giorni che sono venuto qui a Arezzo sono proprio propedeutici per preparare già tutto quello che ci chiederanno a giugno. Ci proviamo molto prima stavolta così e vediamo qualunque tipo di sorpresa.